Io ho preso, la settimana scorsa ho preso un altro pacchetto standard pack e devo dire un'altra, come la chiami tu, una bella sculata E andiamo a vedere, allora Su Puky, su Puky io devo dire che ho beccato un'altra, un'altra bella giornata, un'altra bel pacchetto Credo Non stai spendendo più nulla Io questo volevo cercare di capire pure dagli utenti Perché ho visto, tu bene, mi spaventa la nuova moneta che metteranno Infatti ho notato, allora l'hype che c'era prima quando uscivano i pack Quando uscivano i pack c'era proprio un entusiasmo, lo si vede Questo secondo me maggio me l'aspettavo, doveva essere un periodo un po' più dormiente Infatti penso che questo sarà il mio ultimo pack che ho comprato Non credo di prenderne dei altri Adesso infatti ho fatto Ciao Matti, ciao, buonasera, ben arrivato Milan, un altro Milan, un altro Milan, non so perché Poi San Paolo Green Poi Benford E Sapporo Questa è buona, questa dovrebbe essere interessante Pensavo che magari poteva interessare a qualcuno Anche perché occasioni di palle ora ce ne sono a bizzef Sì, ora ce ne sono veramente a bizzef Io devo dire che secondo me Io penso di aver raggiunto il numero soddisfacente di Di boogie ball, di sticker Per avere un valore giusto per entrare nel nuovo gioco Questo era l'ultimo pacchetto Gli ultimi matic che avevo racimolato dalle ultime vittorie Ho raggiunto la quota e l'ho preso E ne ho presi due praticamente nelle ultime due settimane E penso che con questo mi fermo Mi fermo Ormai ragiono in un'altra maniera Infatti se a qualcuno dovesse interessare La mia strategia attuale di puchi è Una palla della Spagna A livello 60 Ce l'ho Adesso sto potenziando Praticamente sto cercando Giocando solo ed esclusivamente l'altra Spagnola E sto spingendo di brutto su questa Perché l'obiettivo è cercare di portarla al massimo Per ascenderla insieme all'altra Per ottenere un'epica Che un'epica se non sbaglio Nuovo gioco E lo valutano La valutano 400 dollari Infatti questo mi sto loggando su Su Metamask Quindi l'obiettivo L'obiettivo è portare questa E fare l'ascensione in modo da Ottimizzare Andare al massimo Almeno la tua strategia ti fa usare una palla forte Io sto facendo salire le com Ma no Allora io ti dirò Ti dirò Secondo me far salire le com Non ne vale la pena Non ne vale la pena La mia Allora io non so È rischiosissima la mia strategia Perché io adesso vedi Ce l'ho La possibilità Di portarla Di portarla su Ok C'è l'esperienza La raggiunta Per arrivare fino Al livello 53 Il problema è che mancano i POC Tecnicamente Tecnicamente A luglio A luglio Secondo la timeline Dovrebbero Cominciare Dovrebbero sparire I premi In Matic E cominciare Ad aumentare I premi in POC Che dovrebbero Tornarci utili Per potenziare Tutto quello che è da potenziare Infatti io ho Una valanga di cose Da portare Da portare su Quindi per esempio Qui c'ho Un Buckyball del Real Madrid Che pure Potrei portare Fino a che livello 40 Praticamente Ha l'esperienza Per essere portata A livello 40 Dall'altra parte Ne ho un'altra Lo stesso Che Che sta già 39 Quindi potrei Addirittura Scenderla Cioè Almeno la cosa Che serve In questo momento Si POC miseria E E questo Il mio Il mio problema attuale Il mio problema attuale È cercare di migliorare Il più possibile Quello che ho Per cercare di arrivare Poi dopo Ad avere più soldi Possibili Da immettere Nel nuovo gioco E io Voglio Voglio dire Per quanto riguarda Pucki Che si vede E' palpabile Il discorso Che attualmente Non c'è L'hype Non si respira L'hype C'è forse Un po' Di sfiducia Un po' Di paura No Nei confronti Del nuovo gioco Basta Basti guardare Che Per esempio Qua la common Ce ne sono ancora 45 disponibili 45 disponibili E Stiamo a giovedì Ed escono da martedì Prima Se le prendevano In un lampo Quindi si vede Che attualmente L'hype Non c'è E ovviamente Anch'io Sono spaventato L'aggiornamento E quant'altro Però Una cosa è certa Se uno Io attualmente Come ho detto Mi fermo Quindi sto bene così E devo solo potenziare Quello che ho Infatti Se a qualcuno Dovessero interessare Una delle mie Sticker O Pookieball Già l'ho scritto Sul gruppo Per chi fa parte Dei vari gruppi Twitch Telegram Eccetera Facciamo uno scambio Alla pari Perché tanto ormai Non ha più senso Guardare Milan Piuttosto che Un altro Se una sticker Del Milan Per dire Non la utilizzo Cioè nel senso Non è attaccata A nessuna bolla Per me al momento Averla lì Per me Ha lo stesso valore De un'altra Quindi 5 dollari Che è il valore Che mi danno Per una sticker A livello zero Quindi Che cosa faccio Vuoi una delle mie sticker Una delle mie Pookieball Me ne dai Un'altra Di pari livello Indifferente Scegli tu E facciamo il cambio Almeno così Magari A te può tornare utile Puoi Puoi usarla La puoi attaccare Quindi Guardatele bene Andate Ho messo pure lo screen Su La collection Dove sto andando Le sticker Quindi Tranne quelle Che come dicevo Che sono Attaccate Le altre Che non sono attaccate A nessuna ball Se vi dovesse interessare Qualcosa L'1-0 Il 2-2 Già l'ho promesso Che faccio uno scambio Stasera Le altre A chi dovesse interessare Qualcosa La può prendere Tranquillamente Infatti Io Una cosa che ho fatto Una cosa che per esempio Non avrei mai fatto Qualche mese fa È legare La palla Della New England Alla Pookieball Spagnola Perché adesso Il cambiamento spagnolo Sta finendo Io gioco L'MLS Quindi C'avevo uno slot libero E ci ho buttato dentro La sticker Del New England Uno Perché così La porto su di livello E magari mi varrà Qualcosa in più Due Perché magari Sfrutto le percentuali Quello è il succo Quindi ragazzi Come vi dicevo Secondo me Al momento Chi ancora Non ha raggiunto Il numero Giusto Di sticker Pookieball Fatevi i conti Per ottenere Quel livello Giusto nel gioco A breve Fatevi adesso Dei calcoli Perché magari Adesso Potrebbe essere Conveniente Ci sono Stigger E Pookieball Che ve le buttano Dietro tutte le parti Ovviamente È un rischio Sì potrebbe essere Un rischio Perché il gioco Cambia Il gioco cambia Ma siamo stati Iniziali da anni È cambiato 50 volte E ci siamo Continuati a stare Una cosa è certa Loro ti danno Un valore In dollari Definito Con cui È un valore In dollari Definito Per quello Che possiamo Acquistare Quindi fatevi calcoli Oggi Vedete che cosa è Che volete Ottenere Nel nuovo gioco E oggi Magari approfittatene Prendendo qualcosa Questo è il consiglio Generale Che mi sento Di dare Poi ovviamente Capisco se Magari qualcuno Ha timore L'altro consiglio Che mi sento Di dare È cercare Di portare Più cose A livello Alto possibile Più le rarità Sono alte Più le portate in alto Più guadagnate Ascendete Ascendete Tutto Non ascendete Consiglio Un altro consiglio Non ascendete Le sticker Con la tecnica Di Una al massimo E altre Cinque Qualsiasi Perché ovviamente Non conviene Assolutamente A nulla Ci andrete A perdere Perché Voi prendete Per esempio Questa mia Del colon Che fra poco Mi vale Già a livello Massimo E quindi vale 7.5 dollari Ne prendo Altre cinque Di Valore Cinque dollari Al momento del cambio Cinque per cinque Venticinque Più sette e mezzo Sono praticamente Trentadue dollari E mezzo Che valgono Che varranno Questi Queste sticker Se voi La scendete E Ottenete Una Una sticker Rara Varrà 25 dollari E quindi Andate a perdere Praticamente Sette dollari E mezzo E quindi State attenti A queste cose Qui Che sono Allora Fammi leggere Robben Mi sono perso Qualche messaggio Ho messo Quelle più generali Tipo risultati Che possono andare Comodi Su qualsiasi Campionato Sì tipo 2 a 1 Ho messo anch'io Su palle Da far salire Secondo me Non cambia Il peggio Solo che ci sono Cose incerte Anche se ora Faranno uscire App per avere Maggiore visibilità Ed il pass è meglio Di una bolla In termini concettuali Lo prenderesti Nel colon Sì esatto Se fate il discorso Di ascendere 6 sticker Common Lo prenderesti Nel colon Concordo Pienamente Con Roberto Il pass È un'idea Geniale Si sbloccherà Il gioco In meglio Ci sarà Ci saranno Tantissime novità C'è il discorso Del pass Quindi potrai giocare Non è più come adesso Che io sono appassionato di MLS Devo consumare ogni giornata 140 energie Perché sono 14 partite Quindi mi devo fare il calcolo Che forse Non ce la faccio Poi a giocare Un unico campionato Da un'altra parte È un delirio Quindi tu c'hai il tuo pass E ti giochi le tue cose Però la cosa figa È che quando Becchio un risultato esatto Prendi Praticamente Come se prendessi Gli sticker Di quelle Due squadre Che si collegano Alla ball Come se fosse Un album Delle figurine Il tuo La tua league Composta da squadre E quindi Più prendi risultati esalti In quella lega Più Quel pass Diventa forte Perché avrà più squadre collegate Quindi percentuali Sempre più alte E quindi I concetti Di puchi Non cambiano Cioè nel senso Loro fanno sempre Un concetto Che a me piace tantissimo Che tu Un NFT Che compri Nel tempo Guadagnerà valore Guadagnerà valore Soltanto giocandolo Come succedeva Poco tempo fa Io quindi Sono molto contento Poi come diceva Roberto Lanceranno l'applicazione Dovrebbero lanciarla A maggio Se non ricordo male La prima cosa da capire È come si potranno Vedere Vendere I pass Quella è l'incertezza Perché può usare Un pass per realità Allora Perché io penso Io penso Che si venderanno Nel market Che ci sarà Nell'interno Dell'applicazione Si potranno vendere Non in Matic Ma nel Nuova Nel nuovo token E Io Mi immagino E Mi immagino Questo aggiornamento Quando l'ho letto Ho immaginato un po' Un altro gioco Tipo Eh Similare A Passore Era uno dei Competitor Con cui ho giocato Starks Dove Praticamente Scusate Scusate E In Starks Per esempio C'è un token All'interno Della piattaforma Tu Entri C'è questo wallet In cui tu Carichi Gli euro Dalla Tua carta Poi Quindi questo wallet In euro Puoi comprare Puoi comprare Praticamente Il token All'interno Della piattaforma Il token Ha un grafico Che sale Che scende Quindi Sta lì Poi dopo In base all'intelligenza Un po' di strategie E quant'altro Ti andrà a comprare Magari quel token Nel momento giusto Quando magari Vale di meno Perché poi dopo Se può salire Quindi aumenta Il tuo capitale E Una volta che tu Hai convertito Diciamo I dollari O gli euro In quel token Quel token Lo puoi utilizzare All'interno del gioco Per acquistare In Starks Per esempio Puoi fare Anche l'opposto Io per esempio Quando A un certo punto Ho venduto i giocatori Ho tirato fuori qualcosa E ho convertito Di nuovo Ho portato fuori Ho portato fuori Praticamente Gli euro Che avevo guadagnato Dalle plus valenze E Devo dire che io Non ho avuto problemi Quindi se lo fanno Su quel tipo Di concetto Lì Non mi spaventa affatto E penso che Possa essere una cosa Che può funzionare Può funzionare Anche abbastanza bene E Allora Novità Novità SoRare Novità SoRare Allora La novità Di SoRare E Praticamente Qual è la novità Che ha lanciato Oggi SoRare Ha lanciato Un'idea pazzesca Vi ricordate Tempo fa Quando avevano Però devi comprare I pass Per farli salire E poi rivendere Per partire Di nuovo Da zero E Sì ma Ci sono Ci sono Ci sono Anche Le sticker Che puoi Che puoi Che è un po' Come funziona Adesso Non ho capito Il dilemma Devono avere Caratteristiche Se non Tutti uguali Ma ce l'hanno Le caratteristiche Le caratteristiche Dei pass Sono Le squadre Che Che praticamente Vai a collegare Come dicevo Se tu becchi Un risultato Di una determinata Partita Di quella lega Becchi Come se becchi Lo sticker E il Praticamente Il bonus Vediamo A prenderlo A prenderlo Dove ne parlano Allora A parte che ci sono Gli sticker E ci sono Vari tipi Di Eccolo qua Praticamente Praticamente Beccando Beccando Il risultato Esatto Di una determinata Partita Prendi E come se Prendi un bonus Su quello sticker Di quella squadra Quindi Più Volte Prendi Risultati esatti E più Avrai dei bonus Sulle squadre Cioè Il bonus Adesso Vediamo Sulla Pugiball Che è Di una squadra X Ad esempio La Pugiball Serie A Con Dell'Inter Prendi il bonus Ho preso Il bonus Prendo il bonus Su quella squadra Mentre con il nuovo sistema Io Giocando E prendendo Risultati esatti Posso prendere Tanti bonus Di tante squadre Diverse Quindi Questo Che cosa Significa Significa Che se Io Ho Una Liga Un pass Più Lo utilizzo E più Ho possibilità Di prendere Praticamente Risultati esatti E più Prendo risultati esatti E più Automaticamente Questa sticker Questo Pass Diventerà Sempre più importante Sempre più potente In più Ci sono i consumabili Quelli Non li consideriamo Perché Quelli Vanno usati Sono tipo Delle sticker Consumabili Che sono Utilizzabili In giornata Quindi Da strategicamente Puoi utilizzarli Su una partita Piuttosto che un'altra E poi ci sono Comunque Anche gli sticker Che puoi Collegare Al pass Per farlo Per diventarlo Sempre più potente Ma sì Personalizzazione Sofiseme Cioè Cioè Per me Il giocare Illimitatamente Una Liga Non apprezzo Poi staremo A vedere Staremo a vedere Nell'aggiornamento Magari Io mi auguro Mi auguro Che Che sia Come me lo aspetto Cioè Secondo me Una figata pazzesca Che sia